la campana suona il dolce risveglio di chi si pone in ascolto per risalire la cima del monte che condurrà al sapere la vita con gioia e ardore di chi vuole che l'esistenza torni ad essere la nota del di che fu le genti ascolteranno le dolci note e le riporteranno all'interno dell'anima che il sangue scioglierà dai fardelli perenni di un camminare che ritarda la speranza e riporta il dubbio all'interno di sé dolce sarà il ritornare avendo toccato il ricordo tramite la speranza nel divenire che ritornerà ad essere la prova di un andare spedito e diretto verso la meta che fede ha la fede dimori nei cuori contriti e li riporti ad essere tali per rispecchiarsi nel lago d'amore che il coraggio incute nell'animo di colui che viaggia in spirito di santità